Sono partite lo scorso 30 novembre le lettere di licenziamento dell'azienda ospedaliera nei confronti dei cinque necrofori della ASL che sono stati condannati qualche mese fa in via definitiva proprio per lo scandalo che scoppiò sette anni fa dopo le indagini coordinate dal PM Giulia Maggiore operate dalla squadra mobile di Arezzo. Cinque operatori che erano finiti sotto processo con l'accusa di avere passato alcune informazioni alle agenzie funebri in merito ai decessi e quindi avevano ricevuto dei soldi in cambio di queste notizie per far intervenire i soliti noti, le solite aziende di pompe funebri che intervenivano per prime senza che non si conoscesse il motivo con cui entravano sempre in possesso di quelle informazioni di prima mano. Un giro d'affari alle spalle delle persone che stavano soffrendo per la scomparsa di un proprio congiunto. Una storia giudiziaria culminata in tre processi, tutti terminati con la condanna per i cinque necrofori. Per la Cassazione la pena per loro è di otto mesi. A quanto pare però due di questi operatori non si arrendono al licenziamento e avrebbero consultato un avvocato proprio per contestarlo e quindi potrebbe a breve aprirsi una nuova battaglia legale contro la legittimità di un licenziamento che però dopo tre gradi di giudizio appare quantomeno il minimo.